Se non è neanche adesso le 5 ragazzi, basta, abbandoniamo tutto Un minuto? Minchia, mi devo spiegare Va bene, va bene, eccolo No, raga Non era neanche adesso Eccolo, eccolo Vediamo Non è neanche ora, non ci posso credere Non è neanche adesso, ragazzi Ma com'è possibile? Com'è possibile? Perfetto, siamo entrati Let's go Se qualcuno mi uccide, lo ammazzo Vai, quanto manca? 3 minuti Ce lo dovremmo fare, teoricamente Prendiamoci più materiali possibili, ragazzi E andiamo, cioè, ci facciamo un fortino E ci mettiamo da qualche parte, basta Guarda, manca Un minuto Ok Oh Di mortacci tua Ci siamo? Ci siamo? Dai Oh, eccolo Ti prego, fa che sia Sì Finalmente Let's go Andiamo a sparare Andiamo, andiamo, andiamo Spacchiamo Spacchiamo, spacchiamo tutto Spaccherà? Stiamo facendo danni Stiamo facendo danni Andiamo, andiamo, andiamo Andiamo Eh, non so, perché la vita sembra non scendere L'evento è stato fatto Non si sa se la vita mi sembrava infinita Quindi non so E basta Questo Spacchiamo, andiamo